Io penso che sia opportuno ricordarci di un fatto ovvio. Devo preoccupare? Ricordiamoci di un fatto ovvio, cioè che l'anno di quante stagioni si compone, caro architetto? Quelle solite quattro. Pardon, dato che siamo per la prima volta sul 16, quindi come dicevi prima qualcuno potrebbe ascoltarci per la prima volta. Ecco, se è successo questo, io chiamo il conduttore Rinorsati architetto, non perché io sia impazzito, ma perché è architetto. E no, perché è importante dirlo, mi fa piacere, è bello, è una cosa che io mi apprezzo molto. Come vedete scherziamo sempre di più. Perché dico che l'anno è fatto di quattro stagioni, cosa che sappiamo tutti? Perché è uscito un libro di Bruno Nacci, il cui titolo è Congedo delle stagioni, ma soprattutto il cui sottotitolo è Primavera. Di cosa si tratta? Si tratta del primo volume, della prima tappa, eccolo qui, di quattro momenti narrativi, cioè il primo di quattro volumi, ciascuno riferito a una stagione dell'anno, quindi adesso c'è la primavera, arriverà l'estate, poi l'autunno e poi l'inverno, e questi quattro volumi nel loro complesso conterranno 365 brevi racconti, uno per ogni giorno dell'anno. Le stagioni diventano così l'innesco, il meccanismo che aziona delle short stories, dei racconti brevi, che possono dipendere dai gusti che avete, le potete rapportare a quelle alla Centuria di Manganelli, ai Sillabari di Parise, sono libri molto diversi, ma accomunati naturalmente dalla brevità della forma. E mi piace sottolineare che Nacci, che tra altre cose è anche un traduttore della letteratura francese, ha studiato Vigolo, ha studiato Leopardi, ha studiato Pascoli, ha scritto dei romanzi con Laura Bosio, ha tradotto Canetti, Le voci di Marrakesh, pubblicato da Delfi, è uno dei libri che Bruno Nacci ha tradotto, e, dicevo, anche un narratore con un suo progetto, con un suo sguardo ampio. Questo discorso del racconto breve viene inserito non nella dimensione isolata, per quanto assolutamente legittima e affascinante, di un solo volume, ma in un discorso più ampio. Cioè ogni giorno ha qualcosa da raccontarci, e ogni giorno può essere di per sé la fabbrica di una invenzione o di qualcosa che ci riporta a quello che siamo o a quello che avremmo voluto essere. Insomma, leggere questo primo libro, questo primo tomo dei quattro, questo primo volume, Primavera, mi sembra un ottimo modo per avventurarsi alla scoperta di qualcosa che, e intanto te lo do per acquisirlo agli atti, che possiamo fare tutti, attenzione, senza per questo sentirci tutti degli scrittori, però osservare la quotidianità, come se non fosse qualcosa di ovvio, di scontato, perché non lo è, è un grande aiuto a riflettere diversamente su quello che facciamo nelle 24 ore di ogni santo giorno. E andiamo a salutare anche, congedo delle stagioni, Primavera, di Bruno Nacci. Perfetto.